Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Alessio, allora appoggiamo il telefono, non so dove, però vabbè, ho la tazza qua e non pensate a fare male, perché vorrei parlare un po', ok, togliamo le cusce, allora, anzi, in questo caso le dobbiamo mettere, allora, io penso che... Dicevo, io penso che... Scusate, mi sto mettendo le cuffie... Rai di questo, sì... Se no, penso un tempo abbagnato... Ok, togliamo le cuffie... Allora, oggi vorrei parlare di... Calcio giocato, e quante volte l'ho letto, e poi non lo facevo, ma oggi lo farò. Allora, come sapete tutti il campionato Bundesliga inizia sabato, inizia sabato, alle ore 15.30, ma io penso che... Ok, vediamo qui... Allora, assegniamo il computer e vediamo un po' se ci sono le notizie... Ok, allora... 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 Dicevo, oggi io penso che... Ehm... Ok... No, dicevo... Io penso che... Un minimo... Un minimo... Almeno io... Presumo... Che... Ah, ecco... Cosa dovevo scrivere? Dovevo scrivere... Se mi vuole questa cosa qua, poi dovevo scrivere a... No, dicevo, io penso che... Ecco... Io penso che... Ehm... Il... La Bundesliga... Liga... Comincia... Ma... Ehm... Ma la Serie A no... Questa è la mia... Opinione... Per quanto riguarda... Il il campionato... Sembra che... Il Lione... Vorrebbe ripartire... Della Liga... Solo che... Ormai... La... La... Lo scudetto... E' andato... Nel PSG... Quindi io... Scusate... Dicevo... Io penso che... Potrebbe... Attenzione... Potrebbe... 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 Io dico potrebbe... Attenzione... Potrebbe... Ehm... Diciamo... Guardare un minimo di calcio in televisione per poi fare il post partita... Ma... Io penso che... Ehm... Aspettate... Aspettate... Che devo scrivere una cosa... Aspettate... 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 Per... Io... Sinceramente... Non penso che riparta... Il campionato... Ehm... La Liga... Mi sembra che riapri il 10 giugno... E non... Devo tagliarmi... No... Dicevo... Io... La Liga... Penso che... Ripartirà il 10 giugno... Se... Cioè... Ho sentito dire... Non secondo me... Ho sentito dire... Per quanto riguarda... Ehm... Gli altri campionati... Io non so se... Ripartiranno o meno... C'è la serie B... La serie C... La... Tutto quello che volete... Insomma... C'è... Un sacco di campionati che potrebbero ripartire... Ma... Quello... Non ce ne può fregare... De meno... Cioè... A me sì... Perché io ho il calcio... Cioè... È la mia vittima preferita... In assoluto... Però io penso che... Ok... Togliamo le cuffie... E smettiamo di fare i buffoni... Dicevo... Io penso che un minimo... Di partita... Ma in diretta... Ci deve essere... Con le dovute... Cioè... È difficile stare lontani o meno... Cioè... È difficile... Perché... In tutto sono 20... 21... 22... Ma... Più l'allenatore... Dario... Sono 23... Però io... Penso che... Eh... Togliamo sta cosa che si sente... Cioè... Voi non lo sentite... Ma io lo sento... E non riesco a più parlare... Ok... Aspettate... Dicevo... Io penso che... Secondo me... E dico... Secondo me... Il campionato di Serie A... Non riparte... Io... Penso che... Riparte solo il campionato di Serie A... Per quanto riguarda... Invece... Il campionato... Il campionato di... Serie B... Serie C... Ligan... Tutte queste cose qua... Bisogna un po' vedere... Eh... Per il mio punto di vista... Bisogna vedere... Le... Eh... Le provozioni... Per partire... Molto bene... Nel senso... Voi direte... E che fai... Giochi con la mascherina... Cazzo giochi con la mascherina... Che poi non riesci... E' un... Un po' difficile che gioca... Con la mascherina... Secondo me... Dico... Secondo me... Poi ripeto... Tut... Tutto è possibile... Cioè... Non è che se non giochi... Mai... Cioè... Allora... Voi dovete capire che... Se giocano... Bisogna sempre stare... Perché... Cioè... I giocatori... Sono delle persone... Cioè... Non è che... Sono delle persone... Quindi... Io penso che... Se giocano... Un minimo... Ma dico minimo... Di produzione... Ci deve essere... Magari non si mettono... Che ne so... Non si mettono... Si mettono solo le maniche lunghe... Ma... Cioè... Dico un esempio... Si mettono solo i pantaloncini... Lunghi... Così non passa... Il virus... Ma... Dico... Secondo me... Poi non so... Cioè... Secondo il mio punto di vista... Poi... Non lo so... Poi... Cioè... Dico così... Ma il campionato... In qualche modo... Deve... Pur ripartire... Essendo... Ehm... Il coronavirus... Che non lo smetto... Essendo invece il coronavirus... Io penso che... Un... Ossia... Un minimo di... Ehm... Diciamo... Calcio ci... Deve essere... Per quanto riguarda... Il... Campionato... In serie... A... Non riparte... La Liga... Scusate... Cioè... Per me non riparte... Poi potrebbe ripartire... Quando vuole... Quando voglio... Ma... Il... Il messaggio... Aspettate... Dejava... Ho il telefono scarico... Molto bene... Dicevo... Io penso che... La Liga... Potrebbe ripartire... La motosliga... Riparte sabato... La... Premier... Anche la Premise... Si sta parlando... Qualcosina... Manca... La Vigan... Che... Sembra... Che il Paris Germain vince... O scudetto... Sembra... Il Leone... Potrebbe ripartire... Cioè... I casi della vita... Sono tanti... Nel senso... Quindi... Io penso che... Un minimo... Di calcio... Ci deve essere... Ma... Giocato... Cioè... Nel senso adesso... Cioè... In diretta... Quindi... Non è che... Mi vado a guardare... Le partite di... Bologna... Cagliari... L'anno scorso... Io dico... Di questa... Di questa... Annata... Qua... E... Io... Penso... Che... In qualche modo... Si... Si riapre... Però... Non so... Quando... E questo... Potrebbe... Capire... Quando... Potrebbe... Riaprire... Niente... Ragazzi... Vi saluto... È stato... Bello... Sare in vostra compagnia... E... Ricordatevi... Come sempre... Che... Alessio... Vi vuole bene... Ci vediamo... Stasera... Con... Un nuovo video... Buon pomeriggio... E... Un nuovo video...